Presentiamo il modo più avanzato per sterilizzare e asciugare biberon, parti del tiralatte e accessori. Sterilizzatore ed essiccatore Baby Brizza One Step Sterilizer Dryer Advanced. Premendo il pulsante, lo sterilizzatore Sterilizer Dryer Advanced sterilizza e asciuga automaticamente biberon, parti del tiralatte e altri accessori col vapore naturale, uccidendo il 99,9% di germi. Asciuga il 33% più velocemente. Questo apparecchio rivoluzionario ha un filtro EPA integrato per garantire l'asciugatura con aria al 99,9% priva di germi. Lo sterilizzatore Sterilizer Dryer Advanced può contenere fino a 8 biberon, la capacità più alta di qualsiasi sterilizzatore. È dotato di un contenitore che può contenere le parti di due tiralatte. È modulare. Ciò significa che si può utilizzare in quattro modi diversi, a seconda delle esigenze. Non perdere altro tempo a sterilizzare i prodotti del tuo bebè in acqua bollente o asciugarli su una griglia sporca e non sterile. Sterilizza e asciuga in maniera avanzata con Baby Brizza One Step Sterilizer Dryer Advanced.